Nella tarda serata di lunedì 2 gennaio una pattuglia dei baschi verdi ha fermato nel quartiere di Veronetta un giovane a bordo di un'auto. L'uomo, dopo aver sin da subito ammesso di fare uso di stupefacenti, si è mostrato oltremodo agitato. I militari pertanto hanno perquisito il mezzo rinvenendo 10 grammi di hashish già suddivisa in dosi. Le fiamme gialle hanno quindi deciso di perquisire anche l'abitazione del giovane, dove era custodito un borsone contenente poco meno di 2 kg di marijuana e oltre 800 grammi di hashish pronti per lo spaccio. Il giovane è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto nel carcere di Montorio in attesa della convalida del fermo.